Ok, iniziamo quindi la serata per parlare sulla longevità e come questa scuola che stiamo proponendo si vuole muovere, diciamo, perché in effetti l'aspettativa di vita si sta allungando, questo è inevitabile. In parte è dovuta sicuramente a una mortalità infantile molto più bassa di quella che c'era un secolo fa, perché un secolo fa c'era una mortalità altissima, adesso invece quella è molto più rara sicuramente, quindi anche lì sull'età media è andata a incidere sicuramente anche il discorso di un abbassamento drastico di mortalità infantile. Poi chiaramente le condizioni di vita molto più agevoli rispetto a un secolo fa, ma anche solo rispetto a cinquant'anni fa, danno maggiori possibilità alle persone di vivere più a lungo. Però parallelamente a questo aumento di vita media sta aumentando anche la precocità e la durata delle malattie. Ci si ammala prima di malattie invalidanti. Leggevo degli studi fatti in questi ultimi anni addirittura dieci, dodici anni prima si beccano delle malattie. Una volta si beccavano magari tipo a settanta, settantadue, settantatré anni, già a sessant'anni c'è molta gente che ha contratto delle malattie di una certa gravità. Quindi si vive di più, ma si vive male nell'ultimo periodo della propria vita. Gli ultimi venti, trent'anni sicuramente vengono vissuti in malattia, quindi riducendo la qualità di vita. E questo lo si può vedere facilmente, basta andare in un ospedale o visitare una casa di riposo e si vede quanta gente c'è già a settant'anni messa male, sicuramente con tante patologie dove deve essere seguito da personale anche sanitario. E questo è uno dei frutti della medicina soppressiva, perché quello che è stato sviluppato in questi anni è stato la compressione della malattia. C'è una malattia? Ti diamo un farmaco e la comprimiamo, solo che a lungo andare questa tecnica, questa modalità, logicamente porta le persone a una certa età sovraccarica di farmaci e quindi non si è puntato su tutta una serie di regole per mantenersi in buona salute, ma si è solamente soppresso. Infatti in genere non si sta a guardare oggi in che cosa si sta sbagliando, quali sono gli errori che si stanno facendo, ma si copre, si copre, si copre, con farmaci di tutti i tipi per andare a sopprimere quello che è il problema. Ma sappiamo benissimo che poi, ed è questo è un dato di fatto, perché lo stiamo vedendo adesso come questi ultimi decenni hanno veramente sviluppato una quantità di malati che è enorme sicuramente. I farmaci vanno utilizzati sì, ma quando si va nella fase ultima della vita, quando chiaramente il corpo ha perso tutta una serie di capacità comunque, tutta una serie di funzioni e lì va supportato allora, allora lì sì che va supportato, ma quando una persona a 30, 40, 50 anni non si può partire subito a sopprimere i sintomi, quando i risultati buoni si possono avere attraverso tutta una serie di cose di cui poi parleremo. Ed è in quella maniera che deve essere l'approccio diciamo alle problematiche, diciamo alle malattie o alle disarmonie, come chiamiamo in naturopatia. ci sono zone del mondo dove ci sono diversi centenari, ma sono zone dove c'è una scarsa assistenza sanitaria, scarsa veramente. Qui c'è un'ospedalizzazione elevata, un'assistenza sanitaria elevata, ma ci sono più malati. Perché questo? La differenza è nello stile di vita. perché qui viviamo in un mondo completamente artificiale e gli stili di vita non hanno nulla a che fare con i ritmi della natura a cui l'uomo dovrebbe essere, a cui l'uomo è assimilabile comunque e si si porta a vivere una vita che è lontano da quello che è l'equilibrio che avrebbe bisogno l'essere umano. E' lo stile di vita che crea problemi. E' il discorso che dicevo prima, epigenetiche, gli stimoli ambientali che possono modificare effettivamente i nostri geni in positivo o poi in negativo. Logicamente se viviamo in un mondo pieno di stress, sempre di corsa, non abbiamo il tempo per pensare a noi stessi o pensare a quello che stiamo facendo poi fondamentalmente. Logicamente è facile portarsi su percorsi e sui stili di vita che sono totalmente scorretti. E quindi qui è importante la conoscenza, è importante la consapevolezza per riuscire a raddrizzare il proprio stile di vita in maniera corretta per vivere a lungo senza malattie e questo è possibile. L'essere umano è nato per stare bene, non per ammalarsi continuamente. Oggi invece la malattia viene vista come una cosa naturale perché ci si ammala regolarmente. Non è vero, assolutamente non è vero. Conducendo una vita sana in termini corretti la malattia dovrebbe essere rara, veramente rara. Infatti in certe zone, come dicevo prima, dove non c'è neanche un'assistenza sanitaria particolare, ma adottano uno stile di vita che è totalmente naturale, uno stile di vita tramandato dai propri genitori, dai propri nonni e quello è lo stile di vita. Chiaramente molto più in contatto con la natura, cibi sani e la cosa importante, lontani dallo stress. Avere del tempo per sé sono aspetti di fondamentale importanza. In Occidente invece continuiamo a correre, continuiamo a inseguire sempre, è una vita tutta di corsa, è una vita tutta di corsa e infatti se domandiamo a cento persone se hanno il tempo sufficiente per fare tutto quello che vogliono, almeno i tre quarti ti dicono che non hanno tempo sufficiente per fare tutto quello che vogliono. Cioè qualcosa che non funziona tanto bene, in effetti. quindi quello che possiamo fare noi ed è quello comunque è un motivo per cui da più di un anno e mezzo teniamo queste serate il martedì e il motivo poi dove spiegheremo bene l'obiettivo della scuola della longevità che metterà in campo tutta una serie di strumenti per agevolare la longevità e arrivare a una certa età in buone condizioni. Come ho detto, due o tre dirette del martedì sera sono stati fatti degli studi ultimamente che dicono che il massimo di neuroplasticità del cervello umano lo si raggiunge a 70 anni. 70 anni chiaramente se si sono fatte tutta una serie di cose come si deve, se si è usato il corpo, se si è usato la mente, tutta una serie di cose che rientrano in uno stile di vita compatibile con l'essere umano, perché molta gente non vive una vita compatibile con l'essere umano con se stesse. E quindi questo studio va a dissacrare tutta una serie di concetti che dopo i 60 e 65 anni si perdono delle facoltà a livello mentale. Non è vero. Aumenta la neuroplasticità e aumenta anche la capacità di analizzare determinate cose. Quindi diciamo quella che si potrebbe chiamare saggezza. Certo, parallelamente aumentano le capacità della mente, però logicamente si riducono leggermente quelle a livello fisico. però si possono mantenere sempre, sempre a buon livello. Quindi in Occidente è lo stile di vita su cui possiamo lavorare in maniera determinante per poter veramente vivere a lungo, ma vivere bene. Quindi arrivare a 80 anni in buona forma, in buona condizione psicofisica. Ma questo con le conferenze che abbiamo si può fare tranquillamente. Arrivare a 80 anni, ma anche 90 e anche più sicuramente, perché infatti uno dei nostri insegnanti, il dottor Olec, il professor Olec, ungherese, lui aveva studiato la meccanica, infatti aveva collaborato ai suoi tempi, logicamente, per un lancio di navicelle spaziali, quindi conosceva bene la meccanica, si è spostato comunque sulla medicina perché ha fatto 5-6 lauree questo personaggio qui. Gli studi fatti, dice, le cere umane sono fatte per vivere 120 anni, se non si fanno errori, chiaramente, se ci si comporta in maniera corretta. Quindi spetta a noi, vogliamo vivere a lungo o vogliamo lasciarci trascinare da abitudini, convenzioni e non ci proteggiamo da un mondo malato, da un mondo inquinato. Tutto possiamo fare, tutto per proteggerci e fare le scelte giuste e vivere sicuramente a lungo. Poi quattro punti fondamentali su cui avere attenzione sono la nutrizione, l'integrazione, gli integratori dove servono, chiaramente allenamento fisico e la gestione psico emotiva, quindi lavorare molto sul discorso delle emozioni e questo poi logicamente ognuno, per ogni persona bisogna trovare una sua ricetta, diciamo, perché ognuno è un soggetto a sé, non si possono fare, non si possono andare a regole generali, bisogna andare a trovare quella composizione alchemica specifica per quella persona. Poi passo la parola a Melissa, sono studi fatti comunque importanti ad Harvard che hanno fatto dei risultati sorprendenti, perché oggi si lega tutto per certa visione quasi completamente sui su dati statistici, colesterolo, glicemia, ipertensione, pensando che tenendo a posto questi valori qui la persona stia bene totalmente. Ma non è così, non è così. Questo studio fatto per diversi decenni dall'università di Harvard dice che non è proprio così, perché è la qualità delle relazioni, la vita emotiva, il fatto di avere delle passioni che sanno dare un'importanza e degli stimoli forti alla vita, sono quelli gli aspetti importanti, quindi vanno non tanto dal punto di vista biochimico, ma dal punto di vista proprio psico-emotivo e ha un'incidenza fortissima quello. Quindi avere un senso di appagamento e di soddisfazione che coincide chiaramente con felicità e la gioia e mi richiamo comunque al docufilm che abbiamo proiettato venerdì sera qui in zona Bergamo con il regista Thomas Torelli e quindi sono quegli aspetti di fondamentale importanza. Ma questo facciamo per iniziare. Adesso passo la parola a Melissa. Eccoci. Buonasera, stavo rispondendo a una domanda. Allora, come diceva Carlo, allora parliamo di longevità. Innanzitutto una cosa che ho trovato stasera molto molto interessante che adesso vi dirò, non è questa e ve la dico più avanti. Cos'è la salute? La salute è la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali. Ovviamente tanto possiamo fare, come diceva prima Carlo, noi non è che nasciamo con una genetica come ci hanno detto fino a poco tempo fa e questa genetica è immutabile, cioè fino alla morte se siamo soggetti a certe malattie ce le beccheremo sicuramente e non abbiamo via d'uscita, indipendentemente dal nostro comportamento per quanto riguarda la salute. Poiché l'epigenetica negli ultimi anni ha dimostrato che tanto possiamo fare perché l'ambiente influisce tantissimo sulla nostra salute, sul nostro, sull'evolversi della nostra situazione. E domani sera la dottoressa Iannetti, per chi ci sarà, è un'esperta di epigenetica. Quindi l'ambiente in cui cresciamo influenza tantissimo le nostre emozioni, la nostra vita e anche la nostra salute. Una cosa interessante, quella che appunto vi dicevo che ho trovato, è nel corso dell'evoluzione della vita sulla Terra, la selezione naturale ha favorito lo sviluppo di programmi genetici capaci di mantenere efficienti e affidabili le molecole complesse di cui siamo fatti per tutto il periodo dello sviluppo fino alla maturità riproduttiva. Dopodiché non c'è più alcun valore per la sopravvivenza della specie nel mantenere attive le molecole. Ci sono geni per lo sviluppo dell'organismo, i geni per la riproduzione, i geni per la, scusate, per la riproduzione, ma non i geni per l'invecchiamento. Quindi in poche parole cosa significa? Che la natura provvede e diciamo da quando nasciamo farci crescere, ci sostiene fino alla maturità riproduttiva. Quindi fino quando in qualche modo siamo utili per la riproduzione della specie. Dopodiché non c'è un programma che naturalmente viene messo in campo per sostenerci durante diciamo l'invecchiamento. Per cui cosa significa questo? che al momento lascia magari un po' così, che è nostra responsabilità totalmente se vogliamo invecchiare bene, mettere in campo tutta una serie di comportamenti virtuosi, quindi di cui abbiamo già parlato più volte, quindi alimentazione compatibile, attività fisica moderata, contenimento dello stress, lavorare sulla respirazione, sulle emozioni, stare in mezzo alla natura. Quindi tutti questi comportamenti sono funzionali al mantenerci in salute, non soltanto quando siamo giovani, tra virgolette, ma anche e soprattutto quando la natura non ci sostiene più. Quindi quando tutto, dopo la maturità riproduttiva, sono cavoli nostri, diciamo così, se vogliamo stare bene. Perché certi meccanismi che prima si riequilibravano naturalmente fino a una certa età, ora questo non succede più. Poi è vero che possiamo mettere in campo un sacco di comportamenti, di cose che ci portano a indecchiare bene, diciamo così, naturali. Quindi abbiamo un grande potere, non è che siamo spacciati, però era per dire come funziona la natura che fino alla maturità riproduttiva, quindi quando siamo funzionali alla riproduzione della specie, ci mette a disposizione tutta una serie di risorse gratis. Mi viene da pensare per esempio al fatto che fino a una certa età i nostri organi montori, quindi pelle, intestino, polmoni, fegato, eccetera, sono nella loro massima potenza, per cui possiamo anche paradossalmente mangiare da McDonald's tutti i giorni e il nostro corpo riuscirà ad eliminare le tossine, perché siamo appunto giovani, siamo in forze e tutto funziona al cento per cento. Sto parlando in generale, chiaramente, salvo casi, chiaramente. Quando superiamo i cinquanta, se andiamo tutti i giorni a mangiare al McDonald's, dopo qualche tempo cominciamo ad avere dei problemini, perché i nostri organi montori non sono più in quello stato di efficienza da riuscire a eliminare le tossine. Questa cosa vale anche per quello che respiriamo, per l'acqua che beviamo, per il cibo che mangiamo. Appunto, mentre prima viviamo un po' di rendita, come abbiamo provato tutti, poi questo aspetto si riduce e sta a noi impegnarci per mantenerci bene, per mantenerci nel miglior modo possibile. Quindi dicevamo, non occorrono geni per farci invecchiare, geni intendo la genetica. È sufficiente l'instabilità termodinamica universale, quindi diciamo il caos e il disordine che si creano naturalmente dopo una certa età, per cui le nostre cellule non sono più così, diciamo, organizzate e tra loro compatte per continuare a mantenerci nel miglior modo possibile. Ovviamente l'incontro casuale o volontario con forze esterne, quindi radiazioni, virus, inquinamento chimico o con forze esterne, scusate, o con forze interne come radicali liberi, infiammazione, squilibri metabolici causati da vita sedentaria, alimentazioni non compatibili, accumulo di proteine e di scarco nelle cellule, portano a una situazione di inevitabile l'invecchiamento e quindi di sviluppo e di crescita dei radicali liberi. Quali sono le principali motivazioni dell'invecchiamento? Uno l'ho appena detto, eccesso di produzione di radicali liberi nel nostro metabolismo. Cosa sono le radicali liberi? Le avrete sentiti nominare spesso o più volte. Sono sostanze altamente ossidanti che si formano normalmente quando bruciamo glucosio e altre molecole nelle centrali energetiche delle nostre cellule, che sono praticamente i mitocondri. Come tutte le combustioni, anche queste che avvengono nelle nostre cellule creano sostanze tossiche. Sapete che tutte le combustioni creano delle sostanze tossiche, quindi soprattutto se i nostri mitocondri cominciano a essere malfunzionanti, quindi le nostre cellule. Confrontando la durata della vita nelle varie specie animali, si è visto infatti che si è constatato che tanto minore quanti più radicali liberi vengono generati dal nostro metabolismo. Cioè la durata della vita è tanto più corta quanto più i radicali liberi sono in un numero elevato, diciamo così. Un altro problema è dato anche dal fatto che i nostri radicali liberi non vengono bilanciati dalle sostanze antiossidanti che assumiamo attraverso l'alimentazione. Quindi gli esempi più noti delle sostanze antiossidanti che assumiamo sono le vitamine, le vitamine della frutta, le vitamine della verdura, la vitamina E, la vitamina C, i carotenoidi, moltissimi polifenoli. I carotenoidi li abbiamo visti la settimana scorsa perché ha fatto la depurazione del sole con noi che abbiamo dato da consumare soprattutto alimenti gialli, alimenti arancioni che appunto sono ricchi di carotenoidi che aiutano la pelle, in questo caso aiutano tutto il sistema ma in particolar modo questa depurazione era volta per aiutare chi va al mare o al montagna in ferie insomma ad avere un colorito, una pelle che subisce poco l'effetto negativo di invecchiamento del sole e quindi riesce a produrre meno radicali liberi proprio perché abbiamo fatto scorta di carotenoidi durante quella depurazione. Quindi la nostra pelle si abbronza per chi l'ha fatta in maniera più graduale, in maniera più duratura e senza creare delle bruciature. Ecco, quando ci si espone per esempio un caso al sole dopo essere stati per tanti mesi chiusi in un ambiente chiuso appunto che può essere l'ufficio, può essere la casa, la nostra pelle non è pronta ad accogliere i raggi solari quindi non è tanto il sole che fa male come hanno diffuso ma la nostra pelle non è abituata quindi produce immediatamente tanti radicali liberi e possiamo ovviare in parte assumendo alimenti antiossidanti quindi vitamine, frutta e verdura ma chiaramente oltre a quello se non ci siamo mai esposti durante l'anno avremo comunque qualche danno sulla pelle perché diciamo il range dal nulla al otto ore al giorno di esposizione ovviamente parlo in maniera generale e per eccesso porta comunque la pelle a soffrire e a avere un invecchiamento precoce. Considerate che i radicali liberi hanno anche una funzione positiva per attivare il suicidio delle cellule malfunzionanti. Per esempio la radioterapia e molte chemioterapie che vengono fatte uccidono le cellule tumorali aumentando la produzione dei radicali liberi. Quindi i radicali liberi sono uno dei fattori dell'invecchiamento ma chiaramente non possiamo limitare l'invecchiamento alla sola produzione dei radicali liberi, è tutto molto più complesso all'interno del corpo. Ci sono poi gli age che è la sigla in inglese di advanced glycation end products, cioè è un altro fattore di invecchiamento costituita da sostanze tossiche, chiamiamoli age che è questa sigla che è inglese, molto infiammatorie sia di origine endogena che di origine alimentare. Quelle di origine endogena sono le alterazioni della struttura delle nostre proteine dovute al legame col fruttosio e il glucosio. Per intenderci la più famosa è l'emoglobina glicata che si misura nel plasma per controllare la gravità del diabete. Queste sono responsabili per esempio dell'invecchiamento della pelle e della perdita di elasticità della stessa. Un altro age quindi identificato con questa sigla di natura esogena in questo caso si genera con la cottura dei cibi. È la reazione che viene sfruttata dai cuochi per produrre una crosticina sulla superficie della carne conferendo alla carne un gusto gradevole. Per intenderci la classica grigliata che si fa d'estate, le grigliate che si fanno d'estate, sapete che la carne per come viene cotta, bruciata, quella crosticina che si forma che dà anche sapore alla carne, è altamente, produce sostanze tossiche. Quindi chiaramente l'invito è di, non vi voglio proibire di fare la grigliata un paio di volte, due, tre volte in un'estate, però sappiate che per chi fa grigliate tutte le domenico quasi d'estate non è per niente benefica. Si possono ridurre i danni facendo una marinatura con limone aceto prima di cuocere la carne, però comunque è una sostanza tossica a tutti gli effetti, per cui il corpo in questo modo continuando a mangiare in maniera continuativa invecchia precocemente, è una causa dello stato infiammatorio e aumenta il rischio di malattie croniche. Quindi sappiate che la famosa grigliata non è benefica per la salute. Ricordiamoci però una cosa, al di là dei radicali liberi, di questi age, di tutti i fattori che portano all'invecchiamento, la capacità del nostro organismo di mantenersi in salute, di reazione è altissima. Il nostro organismo ha veramente delle capacità straordinarie, quindi se prima parliamo di è inevitabile perché dopo la maturità produttiva sembra che ci sia un tracollo, non è esattamente così. Comunque tanto possiamo fare per stare bene. Per il nostro cervello il messaggio resto giovane e non muoio è molto appetibile, cioè è un messaggio che viene recepito, se noi chiaramente lo sentiamo nel profondo, da tutte le nostre cellule come un invito a stare bene e a mantenerci in salute il più a lungo possibile. Ci sono tutta una serie di prodotti naturali, adesso io vi farò un accenno e poi è quello che poi noi quando parliamo di scuola della longevità, chiaramente da naturopati, parliamo di un percorso che noi mettiamo in atto e che poi vi illustrerò brevemente, che proponiamo le persone per garantirci questo invecchiamento, diciamo così, nelle migliori condizioni possibili, stando bene, invecchiando da sani e non invecchiare da malati, come succede molto spesso purtroppo adesso. Come diceva Carlo, tanti anziani, anziani e meno anziani, cominciano a assumere farmaci per delle degenerazioni che potrebbero benissimo essere riprese e riportate in equilibrio andando ad agire su, come diciamo noi, l'alimentazione, sull'acqua che beviamo, sull'attività fisica, su uno stile di vita che contenga lo stress, quindi una respirazione fatta in un certo modo. Certo, bisogna impegnarsi e meno non è come diciamo sempre che la medicina allopatica sulle malattie croniche sto parlando, lasciamo perdere le malattie di pronto soccorso dove è fondamentale la medicina allopatica. È molto più comodo, ho la pressione alta, prendo la pastiglia per intenderci, questo lo diciamo sempre, cioè mangio l'impossibile, quello che mi piace, mi mangio la grigliata tutte le domeniche, sto ragionando per estremi e poi mi prendo la pastiglia per abbassare la pressione. È molto meno comodo e richiede più impegno, cambio alimentazione, mi muovo, cerco di cambiare le abitudini errate, cerco di agire sul mio livello di stress, magari iniziando a fare meditazione e respirazione per riportare i miei valori pressori a un equilibrio. È chiaro che è più scomodo questo, è chiaro che richiede più impegno e richiede un cambio profondo alla persona, ma è sicuramente un modo per restare in salute il più a lungo possibile e non per diventare dei malati cronici oltre che dipendenti dalle case farmaceutiche. Ovviamente anche qui non sto demonizzando sempre comunque il farmaco chimico, perché in alcuni casi è fondamentale, però quantomeno prima proviamo le altre soluzioni, è per il nostro benessere la cosa fondamentale. Comunque ci sono, come dicevamo, tutta una serie di elementi che possiamo mettere in campo per agire sul nostro stile di vita, che agiscono efficacemente sui meccanismi dell'invecchiamento, quindi sappiamo aumentare gli antiossidanti nella dieta, ridurre i cibi ad alto indice glicemico, come sapete, zuccheri, carboidrati raffinati che non sono per niente salutari, aumentare i legumi e i semi oleaginosi. Come diceva prima Carlo, le popolazioni che sono state studiate nel mondo e che sono le più longeve e sono in zone completamente diverse, parlo per tipo dell'Ogliastra in Sardegna, gli abitanti di Okinawa che sono in Giappone e altri abitavano in zone completamente diverse, con delle caratteristiche diverse, però avevano in comune per esempio il fatto di mangiare chi la soia, chi un certo tipo di fagioli, chi ceci e in alcuni casi assumevano pesce, molta frutta e molta verdura e pochissima carne. Questa era proprio una caratteristica che hanno in comune tutti questi popoli longevi. Poi chiaramente vivevano in zone dove la natura regna sovrana, dove c'è un ritmo ancora molto più naturale. In questi casi nessuno di questi viveva nelle metropoli, ma in mezzo alla natura, quindi anche questo aiuta. A livello di stress sicuramente era contenuto, è una vita molto più a contatto con la natura. Un'altra abitudine buona è ridurre, io direi eliminare il latte vaccino, però qua c'è ridurre il latte, l'eccesso di proteine, quantomeno riduceteli, ridurre o eliminare le carni cucidate ad alte temperature, proprio per quel fattore che vi dicevo prima, ed eventualmente pretrattarle con una marinatura di limone aceto. prediligere i cereali integrali, le verdure, il pesce, fare moderata attività fisica, praticare meditazione, yoga, respirazione profonda e imparare a gestire lo stress. Come afferma l'epigenetica, con la nostra mente possiamo agire sui nostri geni, modificandone l'attività. è chiaramente poi le solite diciamo banali ma essenziali, ascoltare musica rilassante, piacevole, la musica ci mette in una condizione di relax e di benessere, ha un potere incredibile. Molto importante è anche giocare l'attività ludica, osserviamo i bambini, osserviamo gli animali, ci sarebbe poi tanto da dire perché dovremmo stare qua, però come le persone, che gli animali e i bambini che giocano riescono a stare nel presente, nel qui e ora, cosa che noi con la mente che o è proiettata con l'ansia al futuro o rimpiange il passato, è sempre rimbalzata avanti o indietro e questo non ci fa vivere il momento presente, che poi è l'unico di cui disponiamo, no? È proprio, si dice, faccio un presente, il presente è un regalo e quindi dovremmo proprio lavorare su questo aspetto per vivere il presente, stare qui e ora attraverso non solo la meditazione, perché si dice sempre che la meditazione è l'unica che ti fa restare nel presente. Noi occidentali non siamo tanto portati, questo è il mio parere, facciamo fatica a meditare, a stare lì per un'ora eccetera, poi per carità c'è chi riesce, chi lo fa benissimo, però per stare nel presente vuol dire anche semplicemente fare qualcosa che piace e stare in quel momento goderselo, un'attività che è cucinare, dipingere, cucire, ricamare, fare l'orto, non so, fare bricolage, cioè tutte quelle attività manuali che ci fanno restare lì e godere del momento, in modo tale che la mente è occupata a fare altro e non va avanti, indietro, cosa devo fare dopo, cosa devo comprare di spesa, eccetera, che sono tutte cose che appesantiscono e ci tolgono energia e ci creano acidità poi, non c'è solo l'acidità corporea ma anche quella dei pensieri. Molto importante per la longevità è anche mantenere una bassa frequenza cardiaca, si può dire in generale che più alta è la frequenza cardiaca minore la longevità, infatti sapete che per esempio certi animali che hanno una frequenza cardiaca più alta, cani e gatti per esempio hanno una frequenza cardiaca più alta rispetto alla nostra, attorno ai 100 battiti al minuto e vivono 15-20 anni più longevi. Quindi un obiettivo è proprio quello di abbassare la frequenza cardiaca attraverso anche lo sport. Più voi fate attività sportiva e più è come il cuore è un muscolo, quindi va allenato. Anche quello, poi qua abbiamo Carlo che è l'esperto di sport, però effettivamente più la nostra frequenza, generalmente più la nostra frequenza cardiaca è bassa e più eh abbiamo possibilità di diventare longevi. Eh sì perché quello una frequenza molto più molto elevata mette sotto stress eh più facilmente il corpo logicamente. Una frequenza più bassa vuol dire avere una cavità cardiaca più è più elevata, più grossa e e riuscire a gestire con meno fatica lo stesso corpo. Quindi è di fondamentale importanza. Quindi l'attività motoria eh infatti anche stamattina ho fatto un piccolo video mentre correvo eh sulle iniziative che 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 teniamo più che altro. Ma è un discorso importante e centrale quello dello sullo stress ossidativo. Lo stress ossidativo che poi è un concetto che è stato introdotto negli anni cinquanta prima non esisteva neanche e indica una condizione diciamo patologica eh di un organismo vivente causata dalla rottura dell'equilibrio fisiologico fra produzione ed eliminazione eh di queste eh specie chimiche ossidanti da parte appunto dei sistemi di difesa del corpo o di antiossidanti. e questo è uno dei problemi grossi di adesso perché si va in stress ossidativo. Lo stress ossidativo è quello che eh pone il corpo in condizioni di difficoltà. Quindi fuori equilibrio. Ma e cos'è che spinge lo stress ossidativo? Lo stress ossidativo è spinto eh da tutta una serie di condizioni tra cui lo stress per esempio un'alimentazione non corretta eh ma anche eh l'inquinamento per esempio. Tutta una serie di condizioni che ci portano a uno stress a stare in stress ossidativo il che vuol dire che i sistemi di tampone rispetto la produzione direi equilibri che è una cosa normale vanno in determinate situazioni in tilt e questo eh questo fenomeno è più difficilmente controllabile quando si superano i cinquant'anni. Più si è avanti con l'età e più i meccanismi di tampone sono sempre più in difficoltà. Ma perché questo? Perché abbiamo lasciato perdere determinati aspetti del nostro corpo, non li abbiamo tenuti allenati e quindi non sono continuano progressivamente a perdere. E questo è uno dei problemi grossi. Lo stress ossidativo è determinato anche sul sul fatto di un'alimentazione ormai distante da un'alimentazione compatibile con l'essere umano dove la frutta e la verdura devono occupare uno spazio molto importante perché contengono tanti elementi antiossidanti. Invece oggi ci si lascia attrarre da gusti eh appetitosi offerti dall'industria alimentare che si trasforma dei cibi e sono specializzati a dare dei gusti molto buoni che attraggono però non è il cibo che fa bene. È cibo che è cibo morto comunque cibo morto a livello vibratorio molto basso e infatti prossimamente faremo faremo un seminario proprio sulla sull'energia vitale degli alimenti, come misurare l'energia vitale degli alimenti. Ne abbiamo fatto abbiamo fatto due volte l'anno scorso, molto interessante per riuscire a vedere quelli che sono i cibi vivi e quelli che sono i cibi morti. I cibi morti ci abbassano la vitalità, i cibi vivi e sono per la maggior parte frutta e verdura raccolta in tempi non troppo distanti dal consumo perché se noi eh prendiamo un'arancia, la mangiamo dopo un mese, i contenuti eh di vitamina C e degli altri le sue proprietà si sono ridotte almeno per un novanta per cento, quindi anche lì è importante eh recuperare frutta e verdura a chilometro zero per esempio perché è il massimo di vitalità. Questi sono aspetti di fondamentale importanza se ci si vuole mantenere in buona salute. L'alimentazione è fondamentale. Come è fondamentale anche fare delle attività manuali per esempio e oggi spesso si fa lavoratori, lavori intellettuali così si fa poco di manuale, quindi chi non fa già un lavoro manuale è bene che inizi. Ma se non fa un lavoro manuale può compensare facendo dei lavori di bricolage a casa o farsi il piccolo orto dove si può fare, fare qualcosa di pratica e manuale perché questo comunque è in parte come se fosse una meditazione perché tende a staccare la mente pensante che è il nostro principale nemico poi fondamentalmente, la mente pensante ci distacca diciamo dai pensieri che continuano magari a girare e rigirare continuamente, i pensieri ripetitivi che sono quelli più zavorranti ed è importante. Com'è importante? Mantenere delle buone relazioni sociali. Noi siamo esseri sociali e quindi è di fondamentale importanza stabilire delle delle dei rapporti con persone con cui ci si trova bene fondamentalmente e tenere lontani le persone che che non vanno bene, le persone negative, le persone che zaborrano, le persone che hanno vibrazioni basse, che hanno sempre qualche problema, tenersi distante da queste persone perché sono quelle che tendono a buttare giù comunque. Rallentare i ritmi. Nei limiti del possibile ralentare il ritmo di vita a un ritmo compatibile dove si lascia qualche qualche spazio per sé comunque, si lascia qualche spazio per pensare su cosa si sta facendo, anche sul significato della nostra vita, del nostro essere qui su questo pianeta, per quale motivo siamo qui, dato che tutto ha un motivo, tutto ha una causa, tutto ha un significato, ma è bene riflettere anche su queste cose qui e quindi la vita non è solamente lavorare, andare a mangiare la pizza, andare al cinema ogni tanto e tutta una serie di cose. Ci sono altri aspetti sicuramente molto molto importanti e poi aspetto anche questo importante, essere curiosi. Essere curiosi stimola alla conoscenza sempre maggiore, chiaramente, che è quella che può portare alla consapevolezza, alla curiosità, il fatto di volere conoscere e volere sapere. Una cosa che c'è da dire, non c'entra niente, però volevo dirla perché c'entra, ma non c'entra con quello che stavi dicendo, è che ricordiamoci che l'obesità, soprattutto l'obesità addominale, è associata a un infiammazione cronica. Quindi le persone che hanno il grasso attorno all'addome, diciamo, e sicura non sono poche, è già quello è sinonimo di infiammazione. Quindi bisognerebbe andare ad agire per ridurre questa infiammazione e quindi anche ridurre poi il grasso addominale. Noi siamo anche dei sostenitori, come sapete, che ci segue, sia delle depurazioni periodiche, siamo un po' fissati, ma anche dei digiuni. Il digiuno aiuta tantissimo a ridurre gli stati infiammatori. Come diciamo sempre io e Carlo, infatti nel nostro percorso di scuola di longevità è previsto anche il digiuno, chiaramente in base a quello che è che ogni persona riesce a fare, non è che lo obblighiamo, non obblighiamo nessuno a fare i digiuni di uno, due, tre giorni, ma magari se non è abituato, iniziare magari a saltare la cena, che già è saltare un pasto, è già un buon passo e non costa quella fatica, è più l'idea, no? Però se uno non ha mai fatto un digiuno è chiaro che l'idea lo respinge un po'. Poi magari iniziare, vedendo che non fa così fatica, a saltare magari anche la colazione e mangiare a pranzo del giorno successivo. E già lì è un passo, è una bella, perché le nostre cellule si rigenerano in questo modo e si creano poi delle cellule staminali nuove, questo soprattutto poi quando facciamo un digiuno magari un pochino, almeno di 24 ore. Si eliminano tutte le cose che non servono più, vanno inaputosi le cellule che non funzionano bene. Quindi per risolvere i piccoli fastidi, come diciamo sempre noi ultimamente, più che aggiungere, è buono togliere, togliere l'iperalimentazione a cui tanti siamo sottoposti, mangiamo tanto, mangiamo tanto, a parte che non siamo mai sazi perché il cibo è povero, ma ci sovraccarichiamo a livello digestivo, creiamo una serie di problemi. Con questa cultura del benessere si mangia troppo. Prima il digiuno, come sapete, anche per motivi religiosi faceva parte della vita. Oggi, a parte qualche religione, se voi parlate di digiuno, tanti storbono il naso e dicono no, io non ce la faccio, oppure digiunare da folli, eccetera. Invece è una delle pratiche più antiche, più naturali, che anche gli animali mettono in atto senza che glielo dica nessuno quando non stanno bene. Quindi ecco, adesso vi dico velocemente, perché così non volevo troppo prolungare il discorso qua della scuola della longevità e questo percorso che abbiamo ideato, che appunto abbiamo chiamato scuola perché è un percorso che facciamo insieme a voi, se volete, chiaramente. È un insieme, è un programma di prevenzione naturopatica assistita che noi mettiamo in campo per seguirvi proprio in questo percorso di eliminazione di cattive abitudini che non vi fanno stare bene, per darvi degli antiossidanti che vi possano sostenere e quindi riducano la produzione di radicali liberi, delle depurazioni, lavorare sull'intestino che è sempre la base del benessere anche a livello proprio psichico, assi intestino cervello sapete che sono collegate. Quindi questo questo sono due programmi, uno che, due pacchetti diciamo, il primo valido per tre mesi che prevede una consulenza in presenza per chi è nella zona di Bergamo, chiaramente diciamo sempre, e due in videochiamata, oppure se la gente è lontana, tutte e tre in videochiamata. Si può fare anche su Zoom senza nessun problema. Il secondo è, e dura tre mesi questo pacchetto, il secondo pacchetto per un periodo valido di sei mesi che prevede due consulenze in presenza, sempre per chi è della zona di Bergamo, e quattro in videochiamata, oppure tutte e sei in videochiamata. Questo diciamo che è più conveniente della precedente. Naturalmente restiamo a disposizione sempre via WhatsApp o via telefonica per qualsiasi problema. Non è che fate le due consulenze, avete finito le due consulenze e non ci sentite più. Restiamo comunque a disposizione ogni qualvolta la persona abbia dei dubbi, abbia bisogno, abbia delle problematiche. E questo a noi fa piacere fare anche questo percorso insieme perché veramente si può fare tanto per stare bene e il ricorso alla farmacia, insomma ai farmaci dovrebbe essere l'ultimo step, non escluso come diciamo sempre, ma prima ci sono tanti passi intermedi che si possono fare insieme al naturopata per riuscire a mantenersi in salute il più a lungo possibile e per non diventare clienti delle case farmaceutiche, almeno fino a quando non diventa inevitabile e allora lì va bene. Però tante persone, non avendo alternative, vanno dal medico e il medico gli dice ok, a quanti anni hai? Sì, hai preso un po' altre? Ok, ti prescrivo la pastiglia. Ma non posso farne a meno? No. Ma se curo l'alimentazione, a parte che tanti non fanno neanche domande, però se uno dice provo a curare l'alimentazione, inizio a muovermi e camminare e dico no, 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 vabbè per sicurezza se ti succede qualcosa, sei a rischio di ictus, è meglio che prendi la pastiglia. La maggior parte delle persone non sa bene, chiaramente si fida del medico come dovrebbe essere e quindi inizia a prendere la pastiglia. Il problema è, non è la pastiglia in sé, ma è prima di provare altre strade e poi che iniziano a prendere la pastiglia, toglierla è veramente poi difficile. Quindi almeno provare alternative, se poi, ripeto, non si riesce a stare meglio con i metodi naturali, allora va bene anche la pastiglia. Ecco, non si demonizza nulla, ma a noi ci piace, ci fa piacere affiancarvi in questo percorso di benessere e longevità il più possibile. E poi, chiaramente, noi non curiamo nessuno. Noi aiutiamo a riportare la persona in un equilibrio e rientrando nell'equilibrio, chiaramente, tutta una serie di sintomi, problematiche, tutto il resto, piano piano spariscono e quindi rientrare nell'equilibrio interiore che viene fatto a 360 gradi su corpo, mente e spirito. Chiaramente non c'è solamente il corpo e basta. Infatti, parliamo di programma di prevenzione assistita, non di cura, eh? Di prevenzione. Infatti, perché poi la questione è che non esiste una ricetta magica che va bene per tutti, non esiste una soluzione rapida, perché se un problema è venuto fuori, si è costruito nel tempo, quindi bisogna lavorare nel tempo per farlo rientrare. Il mito della pastiglietta magica, abbiamo visto cosa sta, cosa ha portato. Un disastro. Io invito veramente a entrare nelle case di riposo, come ho fatto io alcuni anni fa, e vedere cose veramente oscene, ma gente a poco più di 60 anni già fuori di testa, insomma, veramente. E questo è dovuto al fatto che non si è mai affrontato concretamente il problema. E quindi quello che bisogna fare come inizio, e questo è un nostro punto centrale, cosa togliere prima di mettere, cosa togliere di cattive abitudini, cosa togliere di cose che non andrebbero fatte, ma vengono fatte molte volte esclusivamente perché sono le abitudini di quei posti e di quelle comunità, di quelle zone, però non sono abitudini compatibili con l'essere umano. Quindi andiamo a scremare prima, piano piano, logicamente. Non proponiamo niente di sconvolgente, chiaramente, perché uno magari può preoccupare, mi sconvolgo completamente la vita, non è così, perché tutto va fatto piano piano e tutto va fatto in base a quello che la persona può fare a livello proprio di approccio psicologico, perché lo stesso anche il discorso dell'alimentazione o il discorso delle depurazioni come dei digiuni intermittenti anche solo di 24 ore. E lì è fondamentale di avere un approccio psicologico di un certo tipo, perché se no è meglio non farlo, perché se si viene visto come una privazione e come una riduzione di cibo e viene preso male, non va bene. Deve essere invece fatto ripetendosi. Questa alimentazione, questo digiuno breve, ok, mi fa molto bene alle mie cellule, le rinnova e quindi ripetersi delle frasi positive di quello che sta facendo, perché noi abbiamo la possibilità di parlare alle nostre cellule. Questo è quello che può accadere veramente se chiaramente ci rivolgiamo alle nostre cellule in una determinata maniera, in maniera negativa. Quindi sono tutti aspetti importanti. Quindi andiamo a cercare, andiamo a trovare assieme alla persona una sua ricetta alchemica equilibrata per quello che è la sua situazione in quel momento, per quello che in quel momento quella persona può fare e non di più e non di meno. Quindi è una proposta sicuramente molto molto interessante per chi vuole veramente un supporto importante per mantenersi in buona salute, avere due naturopati accanto che in ogni momento possono supportare qualunque dubbio, qualunque incertezze ed avere qualunque consiglio. Questo è quello che ci proponiamo con questo progetto. E poi andiamo a riprendere quello che era il concetto della medicina tradizionale cinese, dove il medico lavorava sulla prevenzione, due volte l'anno riuniva la famiglia e parlava con le varie persone della famiglia, perché si sa bene che comunque all'interno della famiglia, conoscendo i vari componenti, si riesce a capire meglio il perché di quella malattia di quella determinata persona all'interno di quella famiglia e quindi c'è tutta una connessione. Questo fa parte un po' del concetto epigenetico, perché la famiglia è il primo contatto che si ha diciamo col mondo poi in genere e quindi vogliamo lavorare sul vero concetto di prevenzione primaria, seguire le persone costantemente e dare sempre delle risposte quando servono, ma chiaramente dandogli un'impostazione di partenza e poi mano a mano messe dopo mese la portiamo a migliorare quello che è lo stato fisico generale per mantenersi in buona salute. Questo è quanto. Chi è interessato, i numeri sono 335-54-95-856, che è il mio, e ho il 351-582-8819, che è quello classico dell'associazione. Il costo poi lo si vede persona in persona perché dipende se è una situazione più complicata o meno, logicamente, quello poi lo si stabilisce di volta in volta. Tre mesi o sei mesi sono i due pacchetti che proponiamo. Perché il benessere è alla portata di mano di chiunque volesse veramente entrare in uno stato di benessere per... Saremo banali. Prevenire, vecchio motto, è vero, è meglio che curare. Effettivamente se noi agiamo prima di ammalarci è anche più economico dal punto di vista proprio molto materiale. Se ci pensiamo prima, abbiamo meno problemi poi. Quindi sembra un addetto banale, ma in realtà prevenire è sempre meglio. Ma in effetti è quello che accade adesso, perché si vive tranquilli, si fa di tutto e di più, si esagerano magari, dopodiché quando si sta male allora li cominciano i problemi. Quando si è dentro determinate patologie, determinate problematiche, poi uscirne fuori non è facile. Non è per niente facile. Quindi meglio pensarci prima. Strumenti ce ne sono ormai tanti, quelli tradizionali, diciamo le medicine tradizionali che ci hanno fatto arrivare a noi una serie di informazioni importanti, ma anche tutti gli studi di questi ultimi decenni, che ha ampliato e ha confermato tutta una serie di informazioni. come quello, per esempio, che l'intestino è direttamente connesso col cervello. L'asse intestino del cervello ormai è totalmente confermato da tutta una serie di studi scientifici e dove malattie di una certa gravità, di una certa importanza, demenzia senile, Parkinson, Alzheimer, sono influenzate da una situazione destabilizzata per anni nell'intestino. Ormai questo anche gli psichiatri si sono resi conto che bisogna lavorare anche su quel campo lì. Quindi ormai di conoscenze ce ne sono tante, studi ne sono stati fatti tanti, stanno proseguendo logicamente, quindi gli strumenti ci sono tutti. L'importante è metterli in campo, è importante avere la voglia e la volontà, un pezzettino alla volta, un passettino alla volta, di portarsi nella strada giusta e nella strada corretta. Questo è quello che proponiamo col nostro aiuto. Ricordiamoci, poi chiudiamo, che il 95% della serotonina, che è l'ormone della felicità, è prodotta nell'intestino. Quindi anche paradossalmente casi di depressione alcune volte c'è una componente anche di disordine intestinale. Andiamo verso la fine? Eh beh sì. Direi che è giunta l'ora. Vi ringraziamo per l'attenzione anche stasera. Speriamo di avervi dato delle informazioni utili, anche se poi andrebbero chiaramente approfondite, perché il discorso di mantenersi in salute e longevi si agisce su tantissimi fronti. Sono tante le cose che si possono fare, per cui è solo un po' un assaggio, quindi dalla parte puramente materica, alimentare, fino alla parte spirituale. spirituale, vivere nella bellezza, nel qui e ora, astenersi dal giudizio. C'è tutto un... ci sono tantissime cose che entrano, che ci mantengono giovani in forma e paradossalmente anche il non giudicare è importantissimo, perché giudicare fa ammalare, fa male a noi, oltre che agli altri. e vi ringraziamo per criticare in questo senso. Quindi, per chi vuole farci delle domande, approfondire questo argomento qui, sia anche della scuola della longevità, il numero è sempre 351-582-8819 e ricordo agli due appuntamenti di domani, al pomeriggio, sulle emozioni risvolte a livello corporeo, cosa si può fare, diciamo, con la dottoressa Annalita Iannetti e poi la sera continuiamo il discorso sulla vera prevenzione primaria, perché non si finisce mai, perché le sfaccettature con cui si può comunque affrontare e approcciare sono tante. E quindi domani sera avremo degli altri aspetti che ci evidenzierà la dottoressa Annalita Iannetti e il dottor Giuseppe Cocca in collegamento. Vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie della partecipazione. E anche qui, Roma piovosa, anche qui piove tutte le notti, però forse adesso no, hanno scritto. Buonanotte e grazie. Grazie a tutti. Ciao. A presto, ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao.